Novena Gesù bambino per ottenere grazie particolari e prepararci all'incontro della notte di natale nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o Dio vieni a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen iniziamo con l'invocazione allo spirito santo o spirito paraclito uno col padre e il figlio discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori voci e mente si accordino nel ritmo della lode il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola o luci di sapienza rivelaci il mistero del Dio trino ed unico fonte d'eterno amore amen io credo in Dio Padre Onipotente creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo suo unico figlio il nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da Maria Vergine patì sotto Ponzio Pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di Dio Padre Onipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna amen ottavo giorno insieme con la croce sul tuo petto io scorgo o bambino Gesù un aureo cuoricino e l'immagine del cuore tuo veramente d'oro per infinita tenerezza tu sei l'amico vero che generosamente si prodiga anzi si immola per la persona amata riversa ancora su di me o Gesù l'ardore della tua carità e insegnami a corrispondere una volta a tanto tuo amore padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli per la tua divina infanzia o Gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo esprimiamo la grazia che vogliamo chiedere a Gesù se è conforme al tuo bene placido e al mio vero bene non guardare la mia indignità ma alla mia fede e alla tua misericordia infinita inno Gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele e tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di Gesù figlio di dio Gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù si Gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen preghiamo dio che costituisci l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso Cristo nostro Signore amen coroncina a Gesù bambino santo bambino Gesù benediteci il verbo si fece carne padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male amen e il verbo si fece carne padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male amen e il verbo si fece carne padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male amen e il verbo si fece carne e bene ad abitare in mezzo a noi ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o santo bambino Gesù che diffondi le tue grazie su chi ti invoca volgi tuoi occhi a noi prostrati innanzi alla tua santa immagine e ascolta la nostra preghiera ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri le loro necessità stendila sui bambini per proteggerli sulle famiglie per custodirle l'unità e l'amore sugli infermi per guarirli e santificarne le pene sugli afflitti per consolarli sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia su quanti stretti dal dolore dalla miseria invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto stendila ancora su di noi per benedirci concedi o piccolo re i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore amen che dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen l'incensiere d'oro vi saluta vi dà appuntamento al prossimo video e vi chiedo di ricordarmi nelle vostre preghiere grazie